Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandici e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Firenze per lavori un chilometro di coda tra Empoli ed Empoli Est. Per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandici. In direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna, San Miniato e Santa Croce. Sulla Statale 223 di Paganico in direzione Grosseto, chiuso il tratto all'altezza dello svincolo di Campagnatico. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di riqualificazione del ponte Amerigo Vespucci modifiche alla viabilità fino alla giornata di domani. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.